Siamo due studentesse Erasmus dell'Università di Napoli, la seconda università di Napoli. Io sono Alessandra Briganti e io Elisabetta Cuzzolino. Abbiamo scelto l'ESAD perché tra le università proposte dalla nostra, questa era una delle poche che si trovava tra le 50 migliori di Domus. L'integrazione all'intera università è stata ottima, ci siamo trovate bene sia con gli studenti che con i professori. Infatti all'intera università sono molto abituati a ricevere studenti Erasmus. Non abbiamo trovato grosse difficoltà ad ambientarci perché i ragazzi portoghesi sono simili nel modo di vivere a quelli italiani. Forse la principale differenza che abbiamo riscontrato è dal punto di vista alimentare. Qui non c'è pasta. La cosa più interessante che abbiamo trovato all'interno dell'università per noi studenti di design è stata quella di poter vedere realizzati i nostri progetti. Infatti all'interno dell'università abbiamo trovato workshop di qualsiasi tipo. Consigliamo quindi agli studenti che vorranno fare un Erasmus di venire in questa università. Oppure in Italia. Basta. È questo. Dobbiamo, non lo so. Non so. Basta. 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 Grazie a tutti